Questa è una notizia che ha un po' sconvolto il mondo dell'atletica, perché il detentore del record mondiale Under 20 nei 100 metri con 9,89 è stato trovato positivo e quindi è stato sospeso dall'antidoping. Tra l'altro è un atleta che può vantare di aver battuto Noal Ice nei 200 metri e ha un primato personale di 19,97. La sostanza a cui è stato trovato positivo è il GW1516, non ho idea se sia questa la pronuncia, però comunque è di sicuro quella sostanza. Che è la stessa identica sostanza a cui era stato trovato positivo l'800 metrista bozzuano Nigelamos. Questa sostanza è particolarmente pericolosa perché è un farmaco sperimentale usato per bruciare prima i grassi, che tuttavia si è rivelato dannoso per gli esseri umani. E in cavi del laboratorio si è visto che è cancerogeno, è potenzialmente cancerogeno. Tornando però ad Issa Mazinga, lui si è subito difeso da questa accusa, perché il test incriminato è del 18 giugno, stato fatto fuori dalle gare, quindi a sorpresa. E comunque lui ha detto che in diverse altre occasioni è stato ritrovato negativo ai test antidoping, più o meno sempre in quel periodo. Perché l'11 giugno dopo il suo 983 ventoso era stato trovato negativo dopo un test. Idem il 24 giugno e anche subito dopo aver siglato il record mondiale under 20 con 989, anche lì era stato trovato negativo. Tra l'altro il campione dell'11 giugno era stato fatto a sorpresa, non era preventivato. Ora però la domanda sorge spontanea, si è realmente dopato oppure no? Ovviamente la risposta non ce l'ho io e vorrebbe saperla anche l'Athletics Integrity Unit, l'organo di controllo a livello mondiale del antidoping per quanto riguarda l'atletica. E questa agenzia, abbreviata in IU, sta cercando di aiutare Issa Mazinga per capire se è risultato positivo veramente oppure no. Quindi settimana prossima, cioè la settimana precedente ai campionati mondiali, verrà analizzato il campione B delle urine del nostro Issa Mazinga. Proprio per capire se è stato un falso positivo, cosa che può capitare, capita poche volte però può capitare, oppure se effettivamente è stata trovata veramente quella sostanza dopante. Se verrà trovata anche nel campione B, allora partirà tutto il processo per decidere se e quanto squalificare questo atleta. Mentre in caso contrario, in caso il campione B dovesse rivelarsi negativo, Issa Mazinga sarà scagionato o potrà partecipare bellamente ai campionati mondiali. Quindi non ci resta che attendere novità in merito per capire se sarà appunto in batteria durante le gare a Budapest oppure no. Alla fine i falsi positivi possono capitare ed è proprio per quello che esistono due diversi campioni delle analisi. Uno che viene sigillato, non viene mai aperto se non in casi eccezionali come per esempio positività o qualcosa. E poi il campione A che viene sempre testato. Certo i falsi positivi non capitano tutti i giorni, è più probabile che uno si sia dopato veramente piuttosto che risultare falso positivo. Ma nella storia ci sono stati comunque casi di false positività e aspettiamo, non ci resta che aspettare. E se non vuoi perderti nessun video di Pillori di Atletica ti invito a seguire appunto Pillori di Atletica. Grazie mille se lo stai già facendo e grazie se lo farai da questo esatto momento e... Bye bye!